Mafia, rimesso in libertà Angelo Monaco, reggente del clan Trigila di Noto. Angelo Monaco, 66 anni, considerato dagli inquirenti reggente del clan Trigila di Noto, è stato rimesso in libertà per decorrenza dei termini. L'uomo sconta la condanna per il processo vecchia maniera riguardante droga ed assorzione ai danni di imprese agricole ed edile per agevolare il clan Trigila ed è in attesa del pronunciamento della Cassazione per la sentenza definitiva, così come osserva alla difesa Junio Celesti. Angelo Monaco, tra le inchieste, quella del maggio 2017, quando lo stesso fu fermato a Villa San Giovanni a bordo di un camion contenente 70 kg di droga, con lui Pietro Crescimone, 45 anni, che aveva scelto il rito abbreviato ed è stato condannato in appello a 4 anni di reclusione. Monaco ha sempre negato le accusa, sostenendo che non era a conoscenza del carico di quel camion guidato da Crescimone, complice di Monaco, che si è addossato alle responsabilità, scelsa di farsi giudicare con il rito abbreviato, rimediando una condanna a 4 anni di reclusione da parte del giudice della Corte d'Appello. Il 14 luglio 2022 si è dato a via il processo al clan Trigila con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. L'operazione Robin Hood era scattata a maggio 2021 su delega della Procura di Statuale della Repubblica e Direzione di Statuale Antimafia. La Polizia di Stato, congiuntamente al Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa e al Nucleo di Polizia Economico e Finanziare della Guardia di Finanza di Siracusa, conclusa con 13 misure cautelari nei confronti di diversi soggetti facenti parte dell'associazione di tipo mafioso denominata Clan Trigila, operante nel territorio della zona sud-orientale della provincia di Siracusa, noto Avola, Pacchino e Rosolini, i quali avevano assunto una posizione dominante nei comparti del trasporto su gomma di prodotti ortofrutticoli, della produzione di pedane e imballaggi e della produzione e commercio di prodotti caseari, influendo e alterando le regole della concorrenza.